Ciao ascoltami, riesce a farmi 10 hamburger e 10 cheeseburger? Ciao a tutti matti del JTF Clan con il vostro gioco che vi parla Vorrei fare solamente una piccola introduzione al video che appunto state per vedere in questo istante Durante il raduno di Milano del JTF Clan che abbiamo fatto a gennaio, non ricordo bene il giorno Al pranzo io e il mio carissimo compagno Labi abbiamo fatto una challenge abbastanza strana al McDonald's Abbiamo provato appunto a sfidarci l'un con l'altro mangiando bensì 10, ripeto 10 hamburger a testa In realtà erano 5 hamburger e 5 cheeseburger Sta di fatto che è una challenge che ci ha davvero provati fisicamente in una maniera incredibile L'avevamo vista anche fare dai The Show che non sono riusciti a concludere Vediamo se il mio stomaco o quello di Labi riuscirà a leggere Allora, questa potrebbe essere l'ultima volta che voi ci vedrete qua Presentati Giuseppe Labi Pronto a distruggere Joe Alta la voce, non ti si sente Pronto a distruggere Joe Non mi distruggerai mai Qui davanti abbiamo bensì 20, ripeto 20 panini 5 cheeseburger, 5 cheeseburger a testa Comunque salutate, ci sono io che sono a rete C'è Matt C'è Curi E c'è Tronze E c'è Pit Vai, puoi partire Aspetta Sono 20 minuti di registrazione Quindi vai E' sufficienti per morire qua Ora abbiamo cosa a vederci dagli iscritti Ciao Mi sto cercando di confondere No, i pantaloni E' sufficiente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.